La possibilità che l'NCD lavori con Forza Italia, come accade in Regione, che qua a Milano si possa fare una coalizione, dipende di fatto dalla posizione ostativa che pone in essere Forza Italia. Forza Italia che non ha perdonato ad Alfano la rottura. Ho fatto un altro ragionamento, che non c'è un problema di sigle. Se noi cerchiamo di fare una somma di sigle, a mio avviso non ne usciamo vivi. Abbiamo un 50% di cittadini italiani che non va più a votare. Buona parte di questi si riconoscono, a mio avviso, in una posizione di centro-destra e quindi dobbiamo partire dai contenuti, dai valori e dalle proposte per fare in modo che i cittadini, in questo caso di Milano, si riconoscono in quel progetto. Questo che lo dobbiamo fare. Se dobbiamo aprire i tavoli solamente a 1 più 1 più 1, non andiamo da nessuna parte.